No, noi fino a questo momento non abbiamo questa evidenza. Noi siamo abituati a fare le previsioni ma anche a osservare la realtà. In questo momento noi l'evidenza di questo flusso enorme non lo abbiamo. La logica ci suggerisce che se dovesse avviarsi un flusso dalla Turchia sulla rotta balcanica e se i muri dovessero interrompere il viaggio verso il nord Europa, si potrebbe aprire quella rotta. Ma questo ce lo fa dire la logica, ma oggi non i fatti. Quindi noi stiamo lavorando per rimuovere il presupposto che potrebbe determinare questa cosa negativa. Grazie.